Buongiorno e bentrovati al consueto appuntamento con i giornali in edicola, la nostra rassegna stampa. Scorriamo insieme i titoli di oggi, martedì 26 marzo. Tanti gli argomenti che troviamo sulle prime pagine dei giornali, a cominciare dalla storica decisione dell'ONU sul cessato del fuoco in Medio Oriente, che ha provocato la durissima reazione di Netanyahu, il premier israeliano. Ancora sui fronti caldi gli aggiornamenti dall'Ucraina con la nuova tensione provocata dall'attentato gravissimo a Mosca. Per la politica italiana invece c'è ancora in primo piano la vicenda Bari che si arricchisce di ora in ora di nuovi capitoli. E poi tanta cronaca nazionale e internazionale. Andiamo sul Corriere della Sera che titola USA-Israele. Strappo all'ONU. Gli Stati Uniti si astengono. Passa la richiesta di cessate il fuoco. L'ira di Netanyahu, il premier ebraico, sblocca la missione a Washington, blocca la missione a Washington. Hamas pronti allo scambio dei prigionieri. Andrea Anicastro prova a riassumere tutte queste vicende con queste parole. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha votato la risoluzione che chiede il cessate il fuoco nel conflitto in Medio Oriente, il rilascio degli ostaggi e che venga garantito l'accesso degli aiuti umanitari nella striscia di Gaza. Gli Stati Uniti hanno deciso di non porre il veto. Il premier Benjamin Netanyahu annulla la missione israeliana a Washington. La risoluzione deve essere attuata, precisa il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guitares. E sempre dagli Stati Uniti arriva però anche una notizia di cronaca. Trump, cauzione ridotta. I giudici dicono che deve pagare 175 milioni di euro entro dieci giorni. Viviana Mazza scrive Donald Trump, in appello, ha chiesto e ottenuto una riduzione della cauzione di 464 milioni da versare per la truffa degli asset gonfiati. Dovrà depositare entro dieci giorni solo, si fa per dire 175 milioni di dollari. E poi un'altra notizia che riguarda la nostra salute. Una ricerca americana nega i benefici del digiuno intermittente. I benefici del digiuno intermittente sono limitati. A sostenerlo è una ricerca americana che ha preso in considerazione le abitudini alimentari di 20.000 persone. Sappiamo che oltre a far dimagrire migliora la sensibilità l'insulina e il metabolismo. Riduce l'infiammazione, abbassa il colesterolo e la pressione del sangue in chi ce l'ha alta. Questi però sono gli effetti a breve termine. Possono durare qualche mese, forse un anno. E poi, spiega il direttore dell'istituto Mario Negri, Giuseppe Remuzzi, non è un elisir di lunga vita. Ci sono rischi per il cuore. E poi la politica italiana De Caro, scontro sulla foto. Il premier Meloni difende il Viminale. Il sindaco, la sorella del boss, non c'entra con la mafia. E sulle vicende della politica c'è anche la premier che replica Salvini e Le Pen, il gelo della Lega. Divisioni sul voto europeo. Adriana Logroscino scrive Siamo tutti in campagna elettorale, lo capisco, ma dividerci è l'unico favore che possiamo fare alla sinistra. Così Giorgia Meloni ha lanciato un avvertimento a Matteo Salvini, ma dalla Lega non sono arrivati segnali di distensione. Da mesi, ha replicato via Bellerio, la Lega auspica un centrodestra unito, in Europa come in Italia. Purtroppo, fino ad oggi, sono arrivati solo veti sulle pen e sui nostri alleati. E poi vedete a centropagina questa fotografia che viene da Mosca. I sospettati in tribunale con i segni delle torture, usati missili ipersonici, lanato blinda ai confini. Leggiamo Marta Serafini. Uno con l'orecchio tagliato, i volti tumefatti, il più giovane, 19 anni, in aula, è arrivato incosciente sulla sedia a rotelle. I segni delle torture. Ecco i taggichi arrestati per la strage di Mosca, che ha attaccato Kiev con missili ipersonici. E ci spostiamo su Repubblica, Repubblica che titola Allarme ISIS in Europa. Macron teme attacchi e tende la mano alla Russia contro il terrorismo, sventati, attentati in Svezia e Germania. Il ministro della difesa, Crosetto, in allerta ogni giorno. Intanto Putin ammette che la strage è stata jihadista, ma giova a Kiev. Dopo l'attentato di venerdì scorso, si diffonde la minaccia di nuovi attacchi dell'ISIS in Europa. La strage al Crocus City Hall, che ha provocato 139 morti, rappresenta, secondo i servizi di intelligence occidentali, il ritorno del terrorismo islanico nel continente. Macron porta l'allerta a livello massimo e offre collaborazione alla Russia. Berlino, rischio attacchi acuto. Il ministro della difesa italiana, Crosetto, il terrorismo non è mai finito. Le forze armate lo combattono ogni giorno. Putin, riconosce che l'attentato è stato commesso da estremisti islamici, ma continua ad alludere ad un coinvolgimento dell'Ucraina. E intanto di spalla Troviat il voto sulla guerra in Medio Oriente. L'ONU vota il cessate il fuoco a Gaza, astensione degli Stati Uniti che strappa con Israele. E poi c'è il reportage in volo sulla striscia per portare cibo a due milioni di mani protese in aria. E ci spostiamo sulla stampa il quotidiano di Torino che titola Tregua a Gaza, Biden scarica Netanyahu. Per la prima volta gli Stati Uniti tolgono il veto all'ONU. L'ira di Israele è ritirata alla delegazione alla Casa Bianca. Il 25 marzo in Israele sarà ricordato come il giorno del tradimento. Quello degli Stati Uniti che per la prima volta non si sono opposti alla risoluzione dell'ONU 2728. E poi la guerra in Ucraina dopo l'attentato a Mosca, la Nato, ci difendiamo dai missili supersonici e le torture ai terroristi e i confini dell'umanità, scrive Domenico Quirico. E ancora il titolo principale però dedicato al conflitto, al scontro tra Meloni e Lega. L'ITE europea. La Presidente a Campobasso avvisa gli alleati. Stiamo uniti il carroccio. Noi con le penne, lei con i socialisti. E a Bari scontro sulla foto di De Caro. Vendola, l'ex Presidente della Regione. La destra gioca sporco. La Premier. Vergognose. Le accuse appiantedosi. Giorgia Meloni deve trascinarsi sulle spalle le tensioni con Matteo Salvini, anche in Molise e Basilicata. Provare a scrollarle di dosso è servito poco. L'accusa al Capitano è quella di aver usato il videomessaggio inviato da Marine Le Pen per far uscire allo scoperto la Premier sulle future alleanze. E poi quattro richiami. Il caso. Così Emiliano e De Luca fanno lo sgambetto al PD, scrive Luca Bottura. L'economia. Quei sei milioni di italiani sotto la soglia di povertà. Il retroscena. L'Agi, l'agenzia di stampa. Agli Angelucci, il pressing di Giorgia Meloni. L'anniversario. Enaudi, il liberale che odiava gli slogan. E ancora qualche titolo. I diritti malato psichico si uccide in carcere. Torino è il fallimento di un sistema in crisi. Salis, Orban e i giudici sfida alla democrazia. Il caso della militante che ha protestato in Ungheria. E poi l'intelligenza artificiale garante e governo ora è scontro sull'intelligenza artificiale. E ci spostiamo sull'avvenire il giornale dei Vescovi italiani che a proposito della risoluzione dell'ONU titola Colpo per la tregua. All'ONU approvata per la prima volta una risoluzione che chiede alle parti il cessato e il fuoco e la liberazione degli ostaggi. Sì, di Cina e Russia. Gli Stati Uniti si astengono e premono su Israele. Il premier israeliano Netanyahu irritato annulla la missione a Washington in Italia, vertice sulle misure antiterrorismo. E allora leggiamo. Joe Biden ha rotto gli indugi e dopo 170 giorni di guerra a Medio Oriente ha deciso per la prima volta di non bloccare una risoluzione che chiede il cessato e il fuoco alle parti e la liberazione degli ostaggi. Dalla richiesta all'attuazione ne passa, ma per la prima volta Netanyahu ha perso l'appoggio storico di Washington. Una decisione politica, quella di Biden, in tutti i sensi. La campagna elettorale gli sta dimostrando che l'attenzione ai palestinesi sta pagando in termini di consensi. Sfogando tutta la sua rabbia, il premier israeliano ha così subito annullato una missione diplomatica negli Stati Uniti. L'astenzione americana e il sì di Russia e Cina hanno concretizzato per la prima volta una speranza, anche se sul terreno Israele non accenna a voler cancellare l'operazione sul Rafah e l'allarme terrorismo in Occidente rimane alto. E poi a centropagina vedete ancora questa fotografia che viene dalla Russia. Ancora molti punti oscuri sull'attentato. Terroristi intanto in aula, missili in Ucraina. È salito a 14 il numero degli arrestati per la strage di Mosca di quattro giorni fa. Putin, mentre riconosce la pista dell'Isis, punta il dito verso presunte responsabilità di Kiev, ma dalle indagini emergono molti buchi nella sicurezza. Intanto Mosca non molla la presa sul fronte ucraino. I missili ipersonici di Mosca tornano a colpire nei cieli di Kiev. In una settimana sparati più di 190 missili e a Kiev tornano le file all'obitorio per dare un nome alle vittime. E poi c'è un'altra vicenda, quella dei lavoratori delle famiglie con figli. In crescita la povertà assoluta, sono i dati dell'Istat, le stime preliminari per il 2023 segnalano un aumento a 5,7 milioni di persone in Italia. Nel 2023 le famiglie che vivono in condizioni di povertà assoluta sono salite all'8,5% del totale delle famiglie residenti rispetto al precedente 8,3% del 2022. In totale, spiega l'Istat, sono 5,752 mila le persone e il 9,8% dei cittadini italiani rispetto al 9,7% del 2022. Si segnala in particolare un peggioramento rispetto al 2022 della condizione delle famiglie che hanno un lavoratore dipendente come persona di riferimento, vale a dire come una o un capofamiglia. In questi casi l'incidenza di povertà assoluta raggiunge il 9,1% dall'8,3% nel 2022 e riguarda oltre 944 mila famiglie. Un dato preoccupante è quello dei bambini che vivono in una famiglia in condizioni di povertà assoluta. Si tratta di un milione e 300 mila minori. In sostanza non basta più avere un lavoro per non essere poveri, si può anche lavorare, essere lavoratori dipendenti e essere al di sotto della soglia di povertà assoluta. Questo è un dato di cui la politica dovrebbe tener conto proprio in questo momento. E poi c'è la riforma degli anziani. Ora miglioriamola insieme. Il direttore della Caritas, Don Pagnello. Un piano di lavoro condiviso fino alla fine della legislatura per completare con la collaborazione di tutti gli attori il pacchetto di norme che riforma le politiche per la non autosufficienza arrivata dopo 20 anni di attesa. Lo chiede al governo il direttore di Caritas italiana Don Marco Pagnello dopo le critiche al decreto attuativo da parte di molte associazioni. E a proposito dei temi di economia eccoci al Sole 24 ore, il giornale di Confindustria che si occupa della Borsa. Ecco i titoli con dividendi fino al 10% in tre mesi, collocati BTP per 12 miliardi. Leggiamo. Il rendimento dei dividendi, cioè il rapporto tra cedole pagate in un anno e il prezzo corrente di un'azione, sfiora in alcuni casi il 10%. I primi quattro posti tra le blue chip italiane sono occupati da banche con cedole tra il 9,29% e il 7,09% seguite da Enel e Poste italiane, Banca Mediolanum, Italgas e Snam. Spostando il focus sul paniere europeo e una società italiana, intesa San Paolo, a guidare la classifica delle Eurostox 50 in tre mesi, collocati BTP per 112 miliardi. E a proposito di banche, intesa San Paolo, piano da 120 miliardi per le imprese. A centro pagina vedete invece la fotografia della riunione dell'ONU che vota il cessate il fuoco a Gaza. Gli Stati Uniti si astengono, Israele ritira i delegati appunto dagli Stati Uniti. E poi c'è un'altra vicenda, quella delle dogane, stop ai doppi controlli, semplificato lo sportello unico. Si parla della delega fiscale. Un taglio alla ripetizione dei controlli amministrativi sulle merce in dogana per semplificare la vita alle imprese che esportano e agli operatori. Nel nuovo codice doganale che arriva oggi in Consiglio dei Ministri come decreto attuativo della delega fiscale, c'è una spinta per il potenziamento dello sportello unico doganale e dei controlli. E ci spostiamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno, il giornale di Puglia Basilicata. Questa è l'edizione nazionale che si occupa del caso Bari. Primavera di veleni è il titolo principale. Emiliano fa dietrofronto sull'incontro di De Caro con la sorella del boss. Forse ricordavo male la Premier Meloni, giusto mandare gli ispettori in comune. E poi ancora una vicenda che ha di fatto paralizzato i trasporti ferroviari per tutta la giornata di ieri. È successo a Trani e a Palese, una frazione di Bari, dove alcune persone hanno affisso dei volantini che minacciavano l'utilizzo di armi, anche biologiche, nelle stazioni e in alcune scuole. A Trani scatta l'allarme bomba, lunedì di terrore, scuole chiuse e treni fermi. Si indaga per terrorismo, ma non sono stati trovati ordigni. Intanto per l'ex Silva, il siderurgico più grande d'Europa, pronto il decreto per il prestito ponte da 320 milioni. In arrivo risorse fresche per la manutenzione. Tra un mese il piano industriale. E ci spostiamo sull'altro giornale di Puglia e Basilicata, l'edicola del Sud. In comune arrivano gli ispettori. Botta e risposta, destra, De Caro. Amtab è scontro. Il sindaco ha denunciato le anomalie. In furia la polemica politica, mentre i commissari acquisiscono i primi documenti. Gli ispettori nominati dal Viminale si sono insediati i consiglieri nel comune di Bari hanno già acquisito i primi atti. L'obiettivo? Far luce sui presunti legami tra politica e mafia baresi. Intanto la destra attacca De Caro sull'Amtab e sui rapporti con Olivieri, che è l'ex consigliere regionale arrestato. Il sindaco replica fu io a denunciare le anomalie della gestione. E intanto, sempre per la pagina politica, sfuma la candidatura di D'Ambroso nella centrodestra, che pensa al dietrofront. La vicenda di Trani, Barletta e Palese. Allarme bomba, sindaga per terrorismo aperto, un fascicolo contro ignoti al termine di una giornata di disagi, paura nelle stazioni di Trani, Barletta e Palese. E ci spostiamo sul resto del Carlino, giornale del Gruppo Quotidiano Nazionale, che titola Supermissili su Kiev, sale l'allerta della Nato. Putin riconosce la mano dell'Isis nella strage di Mosca, ma continua ad accusare l'Ucraina. Gli Stati Uniti sostegno di ferro alla Polonia. E poi ci sono le interviste. Ad Estefano, della LUIS. L'escalation dopo le parole di Macron. Mancini, ex 007. Terrorismo in Italia. Rischio cani sciolti. A centropagina vedete lo storico voto dell'ONU sul cessato il fuoco a Gaza. Netanyahu furioso. Ora l'America dice stop a Israele. L'America si astiene. Così per la prima volta, con 14 voti a favore, passa nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite la risoluzione che chiede un cessato il fuoco immediato per il Ramadan a Gaza. Israele furiosa con Washington. Annulla la visita di una delegazione negli Stati Uniti e tira dritto. Attaccheremo fino alla liberazione degli ostaggi. Hamas esulta. Siamo disposti subito allo scambio. Ostaggi, prigionieri. E poi l'altra vicenda, quella del caso Bari. I parenti del boss in foto con De Caro. Il sindaco spiega. Emiliano frena. Il caso Bari è il fuoco amico del PD. E ci spostiamo sui giornali del gruppo della provincia. Leggiamo solo i titoli. Questo è Sondrio. Secam. Bilancio positivo. Non accadeva da due anni. Sistema idrico e rifiuti. Il Consiglio di amministrazione. La società è tornata a vedere la luce. Ci spostiamo all'Ecco, dove il Politecnico chiede spazio. Area sport nella piccola. Valassi. Possibile una collaborazione tra pubblico e privato. E ancora la provincia di Como. Guasto alle luci della base. L'elisoccorso via da Como. Per tre notti il territorio è rimasto senza equip per le emergenze. E ancora l'Ecco di Bergamo. Bergamo. Nuove zone 30. Coinvolti cinque quartieri. Tra un mese. Carnovali, Grumello, Redona, Valtese, Valverde, Concafiorita. Tempo di predisporre la segnaletica dei cartelli e i bolli sull'asfalto. E tra poco più di un mese i quartieri che abbiamo appena letto diventeranno zone 30, escluse le strade di collegamento tra i quartieri come Via Ruggeri da Stabello e altri. Quasi allo scadere del mandato, l'amministrazione Gorida ha un'accelerata alla Bergamo città zona 30, estendendo la riduzione del limite di velocità a quasi il 60% delle strade. E ci spostiamo sul messaggero. Questo è il giornale di Roma. Test psicologici per le toghe. Non solo pagelle. Arriva in Consiglio dei Ministri. La norma che prevede l'esame attutidinale dopo l'orale protesta l'Associazione Nazionale dei Magistrati. Il Consiglio Superiore della Magistratura chiede una riunione, ma all'estero è un sistema già collaudato. Leggiamo ancora i tre richiami. Indagine su Bari. Meloni con piante dosi e una foto di De Caro diventa un caso. Il premio era al ministro. Attacchi vergognosi. Poi le riforme. L'Unione Europea rallenta dal sistema del voto unanime. E ancora dossier. Il capo della DIA accusa Striano senza controllo e difeso da De Rao. L'audizione alla Commissione Antimafia. Leggiamo perché questa notizia la troviamo solo sul messaggero. Striano senza controlli e De Rao lo elogiava. Così il direttore della Direzione Investigativa Antimafia Carbone all'antimafia nell'ambito del caso dossieraggi. Sugli atti del finanziere non è mai scattato nessun alert. L'indagato dalla Direzione Nazionale Antimafia aveva ottenuto valutazioni positive. Boom delle SOS, che sono appunto le informative, le richieste di informazioni riservate passate da 36 mila l'anno a 150 mila. Altre vicende. Valentino si ferma. Non c'è piccioli. Saltano le sfilate di giugno. Manca l'erede del direttore creativo. Ma l'altra notizia è quella internazionale. Schiaffo a Israele. C'è stato il fuoco con una via libera degli Stati Uniti. All'ONU passa la risoluzione sull'immediato stop alle armi e Tel Aviv. Noi andiamo avanti. Ce ne siamo occupati ampiamente. E poi c'è una notizia di cronaca. Un morto sull'A1 dopo lo schianto del bus low cost Faro sulle ore di guida. E ci spostiamo sul mattino. Test psicologici per i giudici. La riforma proda in Consiglio dei Ministri. Terzo esame per gli aspiranti magistrati. Protesta l'Associazione Nazionale Magistrati e si riunisce il Consiglio Superiore della Magistratura. Intanto il caso Bari. Meloni dice piante dosi è stato corretto. De Caro è la foto con le parenti del boss. Lui dice loro sono estranei ai clan. E poi un'altra vicenda. Il terrorismo allerta a Pasqua. Sono 28 mila i punti sensibili in Italia. Vertice al Fiminale dopo la strage di Mosca. E poi c'è un'inchiesta ad Avellino su appalti e sponsor. Il sindaco si dimette. Festa ha indagato per le gare al Comune. Pronto a spiegare tutto. Il PM mi ascolti. Gianni Colucci scrive. Il sindaco di Avellino. Festa si dimette. Le decisioni dopo che nei giorni scorsi era stato iscritto nel registro degli indagati nell'inchiesta su appalti deliberati dal Comune. In precedenza Festa era stato indagato per le presunte sponsorizzazioni che avrebbe sollecitato a tre aziende erpini a favore della squadra di basket avellinese. Il sindaco attraverso il suo avvocato ha anche chiesto ai PM di essere ascoltato per chiarire la sua posizione. E poi ci spostiamo e chiudiamo con il quotidiano del sud e l'altra voce dell'Italia. Il giornale diretto da Roberto Napoletano che titola il suo editoriale Italia batte Germania 7 a 0. Rapporto intesa dal 2016 al 2023. Investimenti italiani più 35,7% contro il più 4,5% dei tedeschi. Possiamo continuare a dire che non è successo niente, ma ignoriamo la realtà. Questo risultato, scrive Roberto Napoletano, è frutto della spinta clamorosa dal 2017 a oggi di Industria 4.0 e della filiera dei bonus edilizi dal 2021. Si mettano subito in funzione i nuovi Industria 5.0 recuperati da fitto con il Repower EU e si diano alle imprese le certezze dell'abito su misura di cui hanno bisogno. Si acceleri, come si sta facendo, sui 144 miliardi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza da spendere entro il 2026 di certo, prorogati al 2028. Siamo usciti dalla austerità ottusa. Questo asso nella manica è solo italiano. Governo e opposizioni non lo sprechino. L'ultimo titolo per le priorità dell'agenda di governo serve il partenariato pubblico-privato. Zessunica, LEP, DEF e PNRR. Era l'ultimo titolo del quale ci siamo occupati nel corso di questa rassegna stampa che torna domani. Stessa ora, stessa rete. Per il momento non andate via e restate con i nostri programmi.